Com'è successo? Lissi detta, com'è successo qui? Ma scuola, stavo qua proprio sul coso, com'è stato qui? Proveniente da... Provenivo da lì, da nord. Che spettacolo! Noi avevamo vissuto. L'altro mi butta, io ho fatto la capriola, vaffanculo là. Però poi me l'ho tagliato io, l'ho tagliato lui. Vedi, io, prego Dio che gli augurano il doppio di quello che augurano a me. L'altro giorno rideva che sono cascato. Ecco qua. Zoom a sua ferita, zoom a sua ferita. Ah, quindi sono punti, eh? Sono punti. Ah, sono punti. Ah, sì, sì. La frutta? Pura la frutta, ma pure la testa. No, il casco c'è rotto.